filettoni di merluzzo che ci facciamo farina mandorle o stè ma che è una bella ricettina anche questa me l'ha passata il mio fratellone franco grazie fratellone anche voi mandatemi le vostre di ricette su nella community community quindi ho fatto la verdura l'ho sbollentata e l'ho passata aglio e olio sarebbe la cicoria sì poi ho messo per dargli ulteriore sapore alla cicoria ho messo la paprika la paprika poi aglio in polvere perché mi piace che devo fare se mi piace mi piace a voi non piace non lo mettete il sale perché non l'ho messo nell'acqua così l'acqua della cottura raffreddata glielo do alle mie belle piante poi ho messo una manciata di olive perché nella verdura ci stanno sempre bene le olive sì 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 ci stanno sempre bene quindi ho preso una teglia da forno ho messo un letto di verdura quindi ho messo la mia bella cicoria a base non serve olio perché tanto già la verdura è umida quindi perché dovete sprecare l'olio non serve un paio di a prepariamo quindi adesso il pesce un paio di cucchiai di farina poi se serve ne aggiungete perché se avanza non è che la potete riutilizzare è del pesce ahimè ma neanche anche no quindi semplicemente infarinato e messo sopra la nostra verdura spero che questa volta abbia fatto la ricetta in modo corretto eh fratellone poi fammelo sapere appena la vedrai mi chiami lo so quindi come potete vedere non è una mia ricetta perché sto mettendo ciuffetti di burro che non è che non è buono mamma mia se lo è però io evito i grassi che devo fare va bene ok specialmente poi quando vengono cotti nel frattempo abbiamo acceso il forno è a 180 gradi quindi sale sul nostro pesce il pepe e questo tutto a piacere nel senso poco tanto quanto vi piace certo vi raccomando non esagerate poi prezzemolo e le nostre mandorle che nel frattempo abbiamo triturato grossolanamente e gliele mettiamo sopra se avete quelle a fettina rondelli come si chiamano sì quelle già affettate va bene lo stesso eh anzi io non ce le avevo e quindi ho triturato grossolanamente a coltello o con il frullatore come volete in forno quindi prescaldato a 180 gradi ci vorranno almeno 20 minuti se vedete che ancora non è pronto il pesce che secondo me dovrebbe essere già pronto però in base sempre al vostro forno quando ha fatto anche quella quella croccantina sopra perché le mandorle servono anche a questo ehm questo è il risultato io ve lo dico cioè a casa hanno fatto il bis ne volevano ancora ma purtroppo ahimè era finito ho sottovalutato la ricetta scusa fratellone invece no era buonissima non so se se il burro la verdura il pesce la mandorla non lo so era buonissimo ringrazio l'autore grazie ciao ciao alla prossima